Ciao a tutti! Oggi prepareremo le penne con gamberetti e rucola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono rucola, prezzemolo, aglio, olio, vino bianco, gamberetti sgusciati, sale, pepe, acqua, zafferano, penne e scaglie di grana. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la rucola e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere il prezzemolo, l'aglio e l'olio. Ed azionare i bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere i gamberetti, il vino bianco, il sale e il pepe e cuocere per 6 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft senza misurino. Trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale e ad azionare i bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta, lo zafferano e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Versare la pasta nella ciotola con i gamberetti e la rucola. Ed amalgamare bene. Impiattare e servire spolverizzando con le scaglie di grana. Penne con gamberetti e rucola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.